È passato un mese dalla tragedia del ponte Morandi, che ha spazzato via le vite di 43 persone. Cosa è successo da quel maledetto 14 agosto? Un fiume di lacrime e di chiacchiere. Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto su Genova, un'imbarazzante scatola vuota. Non si sa chi sarà il commissario straordinario, non si sa chi ricostruirà il ponte. Ma adesso a peggiorare le cose si aggiungono i sorrisi. Il ministro Toninelli va nel solito salotto televisivo di porta a porta e si fa immortalare con un bel sorriso mentre mostra il modellino del nuovo ponte. Il manager di autostrade Castellucci va a sua volta da Bruno Vespa e sorride anche lui, mentre dice ci sono forse le foto mentre distruggo il modellino? Il premier Conte fa anche di peggio. A una cronista che gli chiede se il governo ha scelto il commissario straordinario risponde un attimo controllo, no non c'è scritto. E intanto sfoggia anche lui un sorrisone ironico e incomprensibile. A tutti questi signori vorremmo ricordare che Genova aspetta risposte e che su quella tragedia non c'è proprio niente da ridere.